Quindi sofficcicatelo bene. Ma che deve avere la visibilità, non farmi inchiare. Eh beh, però deve vedersi anche l'administrazione. Paolo Ruscone, il comitato rivolgiamo all'automedica. Allora, perché rivolgiamo all'automedica? Rivolgiamo all'automedica perché è un servizio fondamentale per il nostro territorio. 21 comuni dell'area che è a satellite del nostro paese, che è Bellano, in caso d'emergenza pretendono di essere assistiti da un medico perché è la condizione fondamentale nei casi più gravi per arrivare vivi in pronto soccorso. 3.5.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 Grazie a tutti.